Migliaia nelle piazze, milioni davanti alla tv per seguire l'evento musicale dell'estate, Festival Bar 2000. Appuntamento finale con i beat della musica italiana e internazionale, tutti insieme nella magica atmosfera dell'arena di Verona. Alessia Marcuzzi e Fiorello presentano Festival Bar, le finali, lunedì e martedì alle 20.40 su Italia 1.